Marcioli, da che parte la prima azione? Eh Marcioli? Marcioli? Marco? Da che parte la prima azione, quella qua. C'è una piccola pausa adesso, giusto? Eh? Posso andare a fare combattimenti? No. Manca armare posso andare. Guarda, guarda qua. Aspetta. Posso filmare. Buoni. 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 il mestolo si rivuota? il mestolo si rivuota? e chiamiamo sul ring all'angolo blu da Belgrado, Serbia Miele, Nicoli il mestolo si rivuota il mestolo si rivuota il resto Team di Belgrado, da Belgrado, Serbia, Mille, Nicoli. Contro di noi, all'angolo rosso, in bandoci di nero oro, al peso di 86 kg, con un record da professionalismo formato da 9 incontri di scuola, 9 vittorie per lui, 7 delle quali per Capo, già canzoni mondiale Junior IPF per la categoria prezzi massimi e ceri, e accompagna tra l'angolo, da messi Franco Keschi e Gesù Milano Glioti, per la OP2000, Loris Emiliani. Bocsiamo rundi, nemmo stagli, vissajmo, leva, investo il! Ma io faccio, a vero' ti shouldi! Ma io faccio l'angolo, non faccio allora, ma io faccio! Non faccio, c'è! Vissajmo, non faccio, non faccio. Non faccio, non faccio! Non faccio! Vai, tu, scarica ora, è finita! La testa! C***, non faccio, non faccio. ora è più facile prenderlo ora è più facile prenderlo ora è più facile concentrato subito subito su tu la mano muovere muovere la mano bravo più facile prenderlo ora ma fai siamo al perdetto vince questo incontro ai punti Loni e Liliani ha confessato i Grazie a tutti. 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 ... 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 .... ... ... ... ... ... ... ... da WBA per la categoria Fesi Medio-Massi, già 36 volte sulla riga per un titolo in palio, è l'attuale numero 5 del reti mondiale WBC dei testi massimi e cieli, è l'incospirante al titolo mondiale Silver WBC per la categoria Fesi Massimi e Cieli, da Comunque D'Avangolo, da Cesc Milagliotti, Emilio Cicchieri, Cino Lauro e dalla Mancia, Alessandro Abraco, per l'opportunità da civica vecchia Italia, il bambaro, Signor Franco! E ora è il momento di ascoltare l'inno nazionale, iniziamo con l'inno nazionale di Francia per l'abito dell'incontro, signor Robito Pier. Franco, going out! Corso Verona QUAR Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.